Siamo contenti di aver raggiunto la finale anche quest'anno, è il terzo anno di fila che raggiungiamo, quindi siamo molto soddisfatti, soprattutto del gioco che abbiamo imposto oggi con tutti e speriamo bene per domani. Per me è tripla soddisfazione che con questo doppio maschile in finale è la terza in questa edizione. Forse dal 2006 non ci riuscirà nessuno e speriamo di concludere domani al meglio possibile. Bellissima partita, questi ragazzini ce la rendono dura, terribili, bravissimi, complimenti, un po' di esperienza, un po' di ignoranza sana e l'abbiamo portata a casa e siamo contenti. Sì, ecco, domani ci aspetterà una partita ai limiti dell'impossibile, però come già è successo in passato daremo tutto e cerchiamo di dare il meglio. Siamo contentissimi di aver vinto questa partita difficilissima contro due promesse del badminton italiano. Bravi, complimenti davvero a loro. Complimenti a loro. Grazie mille. Grazie a tutti.